Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermantosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». «Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa suo giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». Cari sorelle e cari fratelli, la parola di Dio di questa trentesima Domenica del Tempo Ordinario ci presenta la natura e la qualità dell'autentica preghiera. Domenica scorsa abbiamo sentito Gesù che ci esortava a pregare senza stancarci. Oggi vogliamo meditare sulla vera preghiera, sull'autentica preghiera. E a tutti coloro che pensavano di propiziarsi il Signore con solenni atti di culto e una vita correttamente perfetta, l'autore del libro del Siracide, che sentiremo nella prima lettura delle nostre celebrazioni eucaristiche, dice chiaramente «Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone». Sì, perché il Signore non può essere né comprato né corrotto con i sacrifici e l'abbondanza delle nostre preghiere non lo incanta. «Il vero adoratore di Dio è il povero, colui che non ha nulla su cui contare, colui che davanti a Dio riconosce i propri limiti e il proprio peccato». Una chiara continuazione delle affermazioni del libro del Siracide la troviamo nella parabola evangelica del fariseo del pubblicano che abbiamo appena ascoltato, destinato a proporre non solo un modo di pregare, ma soprattutto un modo di essere davanti a Dio. Gesù mette a confronto due tipi di uomini. Il primo, rappresentato dal fariseo, si vanta dei suoi meriti. Il secondo, raffigurato nei tratti del pubblicano, si riconosce peccatore e fa conto solamente della misericordia di Dio. La borgia del fariseo gli impedisce di essere giustificato, mentre l'umiltà ottiene al pubblicano il perdono di Dio. Legge di vita, dalle quali Dio non si discosta mai. Tutta la parabola è sospesa tra due termini. Chi si sente giusto e chi si sente ingiusto. Chi torna a casa non giustificato e chi torna a casa giustificato. La preghiera si rivela il luogo della verità. Il Tempio è lo spazio dove si rivela il giudizio di Dio. Gesù ci presenta due persone che vanno nello stesso luogo, lo abbiamo sentito. Ambe due salgono al Tempio e compiono la stessa azione. Si mettono davanti a Dio, ma in un modo diverso. All'interno della stessa unità di luogo e di azione c'è una profonda diversità di modi di essere. Chi è il fariseo? Il fariseo è il puro, l'uomo della legge e dell'obbedienza minuziosa, l'uomo pio e devoto, oggetto della stima e del rispetto di tutto il popolo. Il pubblicano, l'esattore delle tasse, è tutt'altro genere di persona. Non rispetta la legge, trafficone, servitore dei romani e naturalmente disprezzato da tutti. Di fronte a Dio il fariseo si sente a posto, fa una preghiera lunga, il cui centro è lui e non Dio. È più una preghiera di parole che di persona. Il suo stare con Dio è sbrigativo, anche se le sue parole si prolungano. Effettivamente non si incontra con Dio, Dio è solo un pretesto per autogiustificarsi. Il pubblicano, invece, si trova a disagio, non si sente a posto. Fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Il pubblicano, prima ancora di pregare con le labbra, pone la sua persona in atteggiamento di preghiera. La sua preghiera è un grido di misericordia. Io, Gesù, vi dico, questi, a differenza dell'altro, torno a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Non possiamo essere giusti da soli, con le nostre sole forze. Possiamo essere solo giustificati. Il fariseo e il pubblicano sono l'unico uomo che rifiuta e accoglie un Dio che è amore. Ricordiamoci bene che la vita cristiana non consiste principalmente nella fedeltà alla pratica religiosa, ma nella coscienza della nostra miseria e nell'abbandono fiducioso alla misericordia di Dio. Carissimi, siamo noi, quel fariseo e quel pubblicano, a seconda che accettiamo o rifiutiamo Gesù Cristo. E allora, anche in questa domenica, Dio semina nel nostro cuore la sua parola di verità e di vita. Una grande serenità deve riempire i nostri cuori, comprensivi e benevoli, verso tutti coloro che incontreremo sul nostro cammino di ogni giorno. E allora, anche in questa domenica, e allora, anche in questa domenica, 주세요, Joker. Continuo ai sumb � Satan Adesso contro Lacrois Ero Grazie a tutti a tutti i 얘기ati